GFVP7, Antonella Fiordelisi nella notte cita fidanzato Gianluca ben in casa, e smentisce suo papà. Nella notte Antonella Fiordelisi, Andrea Maestrelli e Antonino Spinalbese si sono ritrovati a parlare delle loro relazioni sentimentali e inevitabilmente il discorso non poteva non toccare la travagliata relazione che Antonella sta vivendo con Edoardo Donnamaria all'interno della casa del GFVP7. Antonella ha spiegato che in futuro non vorrebbe mai avere una storia come quella che i due vipponi stanno vivendo, dal momento che si augura di riuscire ad avere una coppia sana. Antonella allora ha replicato, spiegando che nella sua vita non è mai riuscita a costruire una relazione sana. Fatta eccezione per l'ultima butta prima di entrare nel reality. Il riferimento è stato dunque a Gianluca ben in casa. Con il quale la Fiordelisi ha svelato di essere riuscita ad avere un rapporto sano. Smentendo di fatto quanto detto fino adesso dal padre, che non ha mai speso belle parole per il ragazzo. Sulla questione allora è intervenuto Andrea, che si è detto d'accordo con Spinalbese. Antonella allora ha concluso ribadendo che non apprezza il fatto che Edoardo la voglia a cambiare. Ai mei, ai mei, n'au avut habar. Cade sus, cade sus, cade sus, cade sus, potr-eu sasar. Acum che nu, nu, nu mai am nimic di ascunz, potr-se vodur-tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n'au avut habar. Cade sus, cade sus, cade sus, cade sus, potr-eu sasar. Acum che nu, nu, nu mai am nimic di ascunz, potr-se vodur-tot mai sus.